buongiorno ragazzi buongiorno oggi andiamo a commentare la partita al tardini tra parma e napoli che vince la squadra azzurra in trasferta per 2 a 0 contro quelli del parma e niente ragazzi innanzitutto chiede scusa per il video di ieri perché poi alla fine avevo detto che avrei fatto il post partita della roma non ci sono riuscito per vari motivi quindi vi chiedo scusa e parliamo invece della partita di oggi una partita un po strana molto tattica brutta se si può anche dire perché nei primi 60 minuti non si è visto tanto una partita abbastanza spenta poi nel tosi man perché napoli dopo sessantesimo attrazione offensiva proprio a gogo perché voleva assolutamente trovare il gol del vantaggio e questa scelta si è risultata molto molto giusta e positiva perché poi napoli subito dopo trova il gol con mertens secondo gol invece arriva per un errore assurdo di jacoponi che regala pala lozano che lozano tira la porta del potere la para manare spinta c'è insigne lì che colta pin vincente la mette in rete quindi un 2 a 0 napoli che alla fine ha trovato i tre punti e niente ragazzi ovvio come detto anche nel video di ieri con la fiorentina le squadre sono ancora in fase di rodaggio quindi le prime partite sono un po lente dal punto di vista perché è normale anche nella forma però è no è ovvio che napoli comunque tramite questi cambi ti fa capire vi fa capire che comunque ha una squadra anche buona in panchina ha dei cambi molto molto validi quindi e poi soprattutto comunque napoli di parte da gattuso di com'era finita la stagione di gattuso aveva tenuto tantissimi buoni risultati con un gioco magari neanche tanto bello perché ti porta comunque a casa i tre punti anche oggi non si è visto un gioco spettacolare del napoli però comunque si fa sui due gol non subisce neanche gol quindi nel senso ottimo anche per la difesa e si porta a casa i tre punti ragazzi napoli se si tiene stretto culibali è comunque una grandissima squadra perché altrimenti culibali va sostituito ricordiamoci che il napoli ha vinto anche già allan e allan non l'hanno sostituito per il momento non so se lo sostituiranno anche se secondo me si dovrebbe sostituire uno come allan comprare un altro giocatore anche se poi alla fine c'è il capo di napoli di oggi dem fabia ruiz genischi non è comunque un punto centrocampo ragazzi assolutamente poi napoli è una squadra con attrazione d'attacco molto molto ampia c'è tantissimi giocatori davanti che fanno sempre loro sono veloci attaccano e poi di smette di smerte se sempre il solito cioè immenso dove lui dove lui gioca c'è ogni pericolo di fa che la mette sempre dentro e di smette c'è di smerte se proprio è un ottimo giocatore e niente ragazzi cosa volevo aggiungere il parma invece è un parma brutto anche il parma non è anche il parma deve un po inquadrarsi un po nel gioco deve trovare qualche soluzione di gioco io l'avevo detto nella classifica provvisoria che il parma quest'anno avrebbe fatto un po più fatica rispetto all'anno scorso tralasciando che poi troppo ruseschi con lì non c'entra niente però è il livello del campionato che secondo me si è alzato infatti questa non ci sarà solamente un anno in una lotta juve intra come tutti pensano secondo me molte più squadre se la possono giocare quindi sarà un bel campionato il napoli può tranquillamente andare in centro si sembra un po contraddittorio perché nella classifica provvisoria non ce l'ho messo napoli in champions perché mai sentivo di dir così però ovviamente se trovano inquadrutture gioco e tutto può fare molto molto bene niente ragazzi tra un po ci sarà anche la parcia anzi tra poco ci sarà anche genoa crotone quella non ve la commenterò ragazzi perché non penso di avere il tempo necessario poi non è questo gran big match sicuramente però voglio commentarvi il sassuolo di zerbi perché chi ha visto il mio video sa che l'ho messo molto alta in classifica ma aspetto molto dal sassuolo quindi sassuolo lo vedrò comunque col cagliari se non sbaglio gioca quindi anche una bella sfida ve la commenterò quella e poi stasera gioco alla mia juve la mia juve quella sicuramente ebbe non può mancare sul mio canale e quindi vi commenterò anche quella quindi ci vedremo verso lì 18 con un altro video per adesso direi che è tutto quindi napoli batte il parma in casa del parma 2 a 0 primi tre punti della squadra azzurra 0 ancora punti per il parma che dovrà un po rivedersi niente ragazzi comunque se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like commentate se va così almeno voi napoletani soprattutto potete dirmi cosa ne pensate voi di questo napoli cosa vi convince di questo napoli di gattuso e saputo ragazzi se il video vi è piaciuto e vi fa piacere iscrivetevi anche al mio canale qui dalle bianco nel tutto bella